Fare i conti con l'ambiente, siamo a Ravenna, siamo con Valeria Bortolotti e parliamo di normativa dei rifiuti. Oggi è una giornata intensa, Lab Meeting 2, quali sono le tematiche che affronterete? Oggi affronteremo la tematica della normativa dei rifiuti in un modo ampio, quindi partendo proprio dalle basi, i principi che normalmente non si studiano mai, forse non si leggono neanche quando si è pronta la normativa dei rifiuti perché è una normativa connotata da un forte taglio tecnico, quindi di solito si salta agli allegati della normativa ambientale, oggi invece cerchiamo di fare un passo indietro per avere uno sguardo più globale sulla normativa e quindi cercare di capire anche come applicare concetti anche di ampio respiro, figli dell'Unione Europea, ai casi più concreti e quali anche conseguenze questi portano, come ad esempio il concetto di corresponsabilità, la responsabilità estesa del produttore nell'ambito della filiera dei rifiuti, a volte non ci si pensa ma in realtà conseguenze molto forti sia sul piano delle attività che sono richieste ai produttori dei rifiuti, sia sull'ambito delle conseguenze che dall'esercizio di queste attività derivano, quindi con tutto un apparato sanzionatorio importante anche a carico di soggetti che non si occupano principalmente dei rifiuti nella loro attività. Grazie e buon lavoro, buona giornata anche a voi.